Visita la nostra zona dedicata a Digital Sign in Gendu. Non potrai fare a meno di notare l'ampia gamma di soluzioni in mostra, ma la segnaletica digitale va oltre il semplice schermo. Si tratta di strutturare e distribuire contenuti all'interno del percorso del cliente. E questi contenuti possono adattarsi in risposta al comportamento dei clienti. Poiché la segnaletica digitale è fondamentale per il funzionamento efficiente di un numero sempre maggiori di aziende, si tratta di un settore sempre più importante. Presso Integrated Systems Europe potrai trovare tutti gli elementi costitutivi dei sistemi di segnaletica digitale. Vieni a vedere di persona!